L'assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico Mino Borracino esprime tutta la sua soddisfazione. Nella mattinata di lunedì prossimo 5 novembre a Taranto presso il polo oncologico dell'ospedale Moscati si procederà alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Giancarlo Ruscitti e del direttore generale dell'Asra di Taranto Stefano Rossi alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato tra l'Asra di Taranto e 170 lavoratori precari tra infermieri, os e dipendenti amministrativi. Si tratta della tappa finale di un lungo ed articolato percorso che seguo con attenzione con ripetute sollecitazioni sin dall'inizio, finalizzato a consentire la stabilizzazione per tanti lavoratori assunti negli anni scorsi tra le diverse amministrazioni sanitarie della Puglia con contratti di lavoro a termine e che ora possono mettersi alle spalle questi anni di precariato per poter guardare con maggiore serenità al futuro. Nelle scorse settimane sono già stati sottoscritti i contratti a tempo indeterminato con i lavoratori precari dell'Asra di Foggia, 102 gli interessati, e con quelli dell'Asra di Bari, 274 gli interessati e progressivamente questo processo interesserà tutte le amministrazioni sanitarie. Sono particolarmente soddisfatto per l'esito di questa vicenda che è anche il frutto delle battaglie e delle giuste rivendicazioni di questi lavoratori che nel corso degli anni, pur tra mille difficoltà, hanno assicurato servizi essenziali per i cittadini in un ambito così delicato come quello sanitario e nei prossimi giorni entreranno a pieno regime nei ruoli dell'amministrazione sanitaria. E conclude così Borracino, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato che rappresenta certamente una pagina positiva per la Regione Puglia e per i tanti lavoratori, soprattutto giovani interessati.